Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Evidentemente non tutti i leghisti sono a favore del ponte sullo stretto. Come sapete Matteo Salvini è del tutto a favore della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, opera quanto mai dispendiosa ma soprattutto discutibile a mio giudizio per il fatto che la rete stradale in Calabria e in Sicilia dovrebbe essere sistemata e perfezionata come anche la linea ferroviaria e invece pensano bene di costruire un ponte che di fatto comunicherà due aree del paese che dovrebbero essere ancora sistemate sul piano delle infrastrutture. Ma non tutti i leghisti sono favorevoli a questa operazione. In particolare sta molto facendo discutere in questi giorni la presa di posizione risoluta e anche radicale oserei dire di Grimoldi il quale ha definito il ponte sullo stretto con la stessa espressione che non ripeterò utilizzata dal mite ragionier Fantozzi al cospetto della corazzata Potionkin. Ricorderete bene che durante il cineforum in cui si proietta la corazzata Potionkin il mite ragionier Fantozzi esprime pacatamente il suo giudizio definendo la corazzata Potionkin una puntini puntini pazzesca e lo stesso ha detto Grimoldi della Lega a proposito del ponte sullo stretto. Ora il giudizio è un po' probabilmente scansonato, è un po' scioperato e tuttavia nella sostanza dice una cosa a mio giudizio condivisibile, cioè che il ponte sullo stretto non andrebbe fatto perché i soldi andrebbero meglio impiegati per altre infrastrutture.